Se i conferimenti della raccolta differenziata dei rifiuti avvenissero in orario, non ci sarebbe il problema dei topi. Arriva la risposta di Ancona Ambiente dopo le vostre segnalazioni alla nostra trasmissione del mattino Buongiorno Marche e il nostro sopralluogo al quartiere adriatico di Ancona, dove girerebbero toponi grossi come gatti. L'azienda, per conto del comune di Ancona, effettua una deratizzazione programmata ogni due mesi, ma si rende disponibile per interventi straordinari se richiesti dall'amministrazione comunale o a pagamento se alcuni condomini lo richiedono. Ma alcuni, secondo Ancona Ambiente, starebbero strumentalizzando la questione, dando la colpa alla raccolta differenziata porta a porta. I sacchi, specie quelli dell'umido e dell'indifferenziato, dice l'azienda, dovrebbero stare in strada al massimo due-tre ore e invece alcuni conferiscono addirittura il giorno prima. Ne deriva degrado e sporcizia, un paradiso per i roditori. In questo periodo, fa sapere comunque Ancona Ambiente, sono in programma interventi di deratizzazione a Piazza Diaz, in via Santa Margherita, in via Panoramica, nell'area della piscina del Passetto e in generale in tutta la zona del centro storico di Ancona.